Natale ha letto con l'influenza per 3.000 liguri colpiti dal virus dell'Australiana e della Cinese, anche se un numero maggiore di persone in questi giorni di festa ha dovuto fare i conti con i sintomi di gastroenteriti provocate da virus correlati che spesso si risolvono nel giro di un paio di giorni. A favorirli sono stati il pranzo di Natale e le cene di famiglia che hanno aiutato la trasmissione del virus. A spiegarlo il professor Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Genova, collaboratore dell'Istituto Superiore di Sanità e fra i maggiori esperti di epidemia influenzale. Rispetto al 2011 siamo di tre settimane in anticipo, ha detto. L'anno scorso il virus venne isolato a fine dicembre, quest'anno all'inizio del mese. Quelle di questi giorni sono patologie provocate dalla combinazione fra il vero virus dell'influenza e i para-influenzali, cugini della vera influenza, che possono portare raffreddori, congiuntiviti, mal di gola e problemi gastrointestinali. Il picco della vera influenza invece dovrebbe arrivare verso la metà di gennaio e potrebbe colpire almeno 8.000 Liguri.